Sì, sono io, Cucina con D. Sono ufficialmente a Tokyo per sei mesi, almeno. Guardate qua che taglio di capelli, swish, swish, addio ai bananoni in testa, ho crociato la barba, qua hai vietato mangiare e bere. Se volete avere aggiornamenti, qua ci sono i cessi, cioè prima quello delle signore e poi in fondo quello degli uomini. C'è anche il bagno dei bambini, se nel caso volesse molestarli. Se volete sapere come me la sto passando in Giappone, potete seguirmi o sulla pagina Facebook Cucina con D, ovviamente, in cui caricherò le varie dirette fatte sul mio profilo, a orario un po' del cazzo. Chiedo scusa ma essendo sette ore avanti faccio quello che posso, quando posso. Domani inizio la scuola, l'unico aggiornamento che vi do è domani inizio la scuola, oggi ho avuto l'orientation day. Ho già conosciuto un ragazzo italiano di Bergamo, di Bergamo, e con domani si inizia una 1-1, quindi proprio beginner entry level. E basta, dai, già un minuto e venti. Ah, qui sul canale farò vari di review dal Giappone, appena riesco a organizzarmi un attimino. E basta, mentre sul profilo parlerò di come mi trovo, di come sta andando e vari aggiornamenti. Lo uso soprattutto per avvertire mia madre, la mia famiglia, che sto bene, mi manca solo il giornale davanti per vedere la data, è tutto. Comunque, basta, dai. Già siamo quasi a due minuti, arriviamo proprio a due, vi saluto. Fate i bravi, iscrivetevi al canale e al canale Telegram che non riesco a mettervi qua sotto. Ciao!